L'indominante, dove stiamo andando ragazzi? Non si sentirà niente. Allora urla di più! Giù, dove stiamo andando? Guarda i capelli! C'è una che solle. Guarda, c'è una persona che si guarda. Guarda, guarda! Sono scoperto! Non, non! Dove stiamo andando? Oggi siamo al completo ragazzi! Sì! E Carl Lorenzen! Quarto episodio! Alla Red Cross! Sì! Che hai? I altrui! C'è nessuno! C'è nessuno! Hai scoperto questa moneta? Mammon! 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 Yes, yes, yes! Oh! What the fuck? Guys, 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 guys! Is that the window? No, no, no. Oh shit! Shit, shit! In front of you! De vero! No, no, no! To the right! To the left! What the fuck? Oh, my God! My foot is on the window, see? That let's move! I'm making noises! I move! I touch it! I touch it! Oh! Oh, oh! My God! Can you just touch it? I'll turn on! Oh! 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 I'm sorry! Grazie a tutti.